Un certo Platone sosteneva che la danza nascesse dall'inclinazione giovanile e umana a muovere il corpo come il combattere. Non esiste contrapposizione tra chi sceglie di muoversi combattendo e chi sceglie invece di muoversi danzando, entrambi devono saper scegliere i tempi e rispettare il proprio corpo. Due forme d'arte diverse che se unite lasciano una scia di emozioni indescrivibili. Carmine e Dana Donadio, lui karateka della CESAM, lei ballerina da sempre. L'hanno fatto, hanno unito il karate e la danza ed il risultato? Lascia senza parole. Sicuramente sì perché è già una cosa che al di fuori dell'Italia va molto. Infatti ho preso spunto per questo tipo di esibizione in Romania al Mondiale dove appunto veniva vista come un momento a parte di questa competizione che attirava parecchia gente. Quindi ci ho provato e ho detto ok vediamo come va e proviamo a trasmetterla anche qua in Italia. Questa sorta di mostra d'arte interattiva inscenata dai due fratelli per la prima volta al Memorial D'Amelio ha fatto innamorare tutti e proprio per questo è stato chiesto ai due atleti di avviare un vero e proprio tour per l'Irpino. Diciamo mi travestirò da cavaliere per quanto riguarda la danza perché abbineremo lo sport che è il karate con il karate con ciò che fa mia sorella Anna alla danza e creeremo come l'abbiamo noi sovrannominata un'intesa vincente che appunto vedrà le due discipline unirsi. Ci chiameranno in tanti a fare questa esibizione. Noi comunque ogni volta che faremo l'allenamento lo proveremo sempre così da perfezionarlo al meglio. A Carmine e Anna va un applauso perché non solo sono riusciti ad unire due discipline che all'apparenza possono sembrare diverse fra loro ma perché grazie al loro legame sono stati capaci di innescare un'esplosione di emozioni che neanche la chimica potrebbe spiegare. Grazie a tutti.